Oggi sono contento, sono contento della prestazione, sono contento come hanno giocato i ragazzi, è stata una partita sofferta ma siamo stati bravi a tenere bene il campo, il primo tempo non abbiamo concesso molto a una squadra che crea tanto, quindi siamo stati bravi a essere belli compatte e a far creare poche occasioni a loro, il secondo tempo invece abbiamo trovato subito il gol, è stata una bella palla recuperata da Jacopo a metà campo, un'azione quasi personale, ha fatto un gran gol e da lì si è accesa un po' la partita, loro non ci stavano, hanno cercato il pareggio a tutti i costi, l'hanno trovato ma noi abbiamo reagito bene colpo su colpo e anche quando siamo rimasti in dieci la squadra ha lottato, mi sono contento perché poi anche a Lecco secondo me abbiamo fatto una partita buona, giusta, due nostre ingenuità le avevamo pagate e avevano portato via punti che poteva essere un bel pareggio anche a Lecco, oggi invece sono stati cinici, penso che la squadra abbia letto bene la partita in tutti i momenti, sono contento per i ragazzi perché è una squadra che sa soffrire, sa lottare, a volte magari è sfortunata nei risultati ma penso che con questo atteggiamento possiamo far bene, certo è che bisogna metterlo in campo sempre e cercheremo di lavorare ogni settimana per portare a casa poi prestazioni così.